Dove vi portate questa mattina? Allora, andiamo nel cuore dei Monti Gemelli, dove il fiume Salinello ha inciso delle bellissime gole. Queste gole sono facilmente percorribili. Ci sono delle bellissime palestre di arrampicata, però noi faremo un percorso tranquillo. Dalla montagna al mare, in pochi minuti, questa è la magia dell'Abruzzo. Tullio, ti abbiamo visto lavorare con le cogolli, che cosa è successo? Sono attrezzi da posto per la cattura delle seppie. Siamo sul tratto di costa di Giulianovo e andiamo a fare una salpata. Andiamo a prendere una sogliola, una cicala di mare, una triglia. Vuoi cucinare Tullio, oltre che a pescare? Mia moglie è una brava cuoca, quindi l'ha insegnata anche a me. Mia moglie è una brava cuoca, quindi l'ha insegnata anche a me.